I protagonisti di questa grande storia d'amore contrastato che si svolge all'interno dell'apparato genitale femminile sono loro, l'ovulo e lo spermatozoo. La fecondazione assistita è una tecnica di procreazione usata da quelle coppie che nonostante abbiano provato tutte, ma proprio tutte le posizioni possibili, non sono riuscite a ottenere una gravidanza. Il primo passo da fare è accertarsi di non essere dello stesso sesso. Se questo fosse il caso non solo sarà spiegata l'infertilità ma sarà anche impossibile porvi rimedio, visto che in Italia la fecondazione assistita è riservata alle coppie eterosessuali. La sterilità può avere cause sia maschili che femminili. Nell'uomo gli spermatozoi possono a volte avere qualche difettuccio, ma fossero anche stanchi, svogliati, brutti e comunisti di solito uno buono tra miliardi si riesce a trovare. Nella donna invece l'apparato riproduttivo può non essere esattamente ben disposto nei confronti dei poveri spermatozoi. A risolvere il problema bastano a volte le romantiche luci di un microscopio capaci di far scoccare la scintilla e far sbocciare il frutto dell'amore, l'embrione, su un vetrino da laboratorio. Altre volte manca del tutto l'intesa e allora si è costretti a forzare un attimino la mano allo spermatozoo il quale viene iniettato volente o nolente direttamente dentro l'ovulo. Comunque ci si arrivi, una volta ottenuto l'embrione questo viene impiantato nell'utero della donna e poi si incrociano le dita sperando che attecchisca. Sembra tutto molto semplice, ma allora perché la fecondazione assistita è così stressante per le donne? Il fatto è che per un uomo donare il seme significa accomodarsi in un'accogliente stanzetta e passare qualche piacevole minuto a visionare le ultime novità in fatto di video e riviste porno. La donna invece deve sottoporsi di solito a una terapia ormonale e poi ad un vero è proprio piccolo intervento chirurgico per il prelievo degli ovuri dalle ovaie. Inoltre anche se la fecondazione va a buon fine e l'embrione si impianta nell'utero c'è sempre una possibilità su quattro che la gravidanza non vada a buon fine e un aborto può avere pesanti conseguenze psicologiche sulla donna che può cedere alla tentazione di addossare la colpa su se stessa o più spesso sul compagno. In Italia selezionare gli embrioni da impiantare è severamente vietato anche quando scegliere un embrione piuttosto che un altro significa far nascere un bambino sano invece di uno malato. La legge italiana impone di impiantare tutti gli embrioni sani o malati che siano. Se poi si riconosce che il feto è come possibile malato si può naturalmente far ricorso all'aborto terapeutico. Questa procedura può essere ripetuta in teoria finché non viene fuori un feto sano da fare finalmente nascere. Ma una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti ha sconfessato questa bizzarra legge che quindi è di fatto non più valida e tutta da rifare. Grazie a tutti.